e si si perchè se scarse non sai che carità dai rega mi raccomando impegniamoci dai ciao faccia vent'anni no di più quanti mi hai Apo? 20 20 20 si 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 Apo del 2001 ci scopo del 2005 lol oh no dove questa esca aspetta aspetta ci vi sociamo tutti signori ragazzi ciao basta ci vi sociamo signore 2007? c'è vabbè ne faccio pure a lei nooo ma ma meno male che uscita vabbè però ma a me non puoi fare schifo io pure le vecchie vabbè però vabbè però su cui su cui c'è allora Marti senti qua Marti questo re noi dobbiamo vincere perchè sta qua la devi clippare a dimettere sui rubri si si ma caricamente lo lascio e tanto non la vincente si ma sto laggando mi sta addossando Apo no lo sai che scusate di fa? mi fa la clip adesso che si è in lobby parliamo poi visto che tu fai tipo il taglio del caricamento fai il taglio proprio un altro regala gente sono presenti sempre che mi dico che mi voglio trombare vecchie e ragazzi dite che mi bastano sei colpi assalto no si è a voglia ti avanzano forse anche alcune no ne ho sparato uno 5 le ho adesso buono buono dammene un po' Matti dammene un po' per favore ti do pure chivare fra si ha messi male qua ti ho rubato un colpo ti ho rubato un colpo si raga però stiamo messi male che non ci sono però ma lo sai che ora hanno flippata verrai net bannato ora eh si fai per scambio in diretta certo oh certo Matti è comodo con questo eroe nella build un colpo in più solo un numero meglio di nulla 20 vbac per un colpo ma no vabbè ma questo colpo toglie 10.000 in più di danno grazie no allora non è potentissimo niente rega 2 sub vabbè giochiamola però no no quittiamo 2 sub che ci fai quittiamo non ci fai no 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 ci fai eh certo non vuole quittatelo perchè siete stati nella clip bastardo esatto no non ci siamo in caccia rega wow fa tantissimo un colpo in più non è che troppo no rega non è va bene così va bene così dov'è va bene così è bene così rega vi ricordo che è una pistola quindi è meglio se ci tacchiamo ve lo dico eh si qualcuno non ci è collegato rega ma non ho fatto scritto rega io mi sono collegato eh io io non mi sono collegato sai io faccio la controcina in legno qua perché mi sono collegato ma tu giusto mi si collegato ne ti banno un po' braccio oh precedente terza terza ma quindi mi facciamo un miniboss no nooo ah miniboss ti facciamo un miniboss ok ma va bene ok lago te oh oh ti ti dirimi no vabbè no rega tu hai svegliato la borsa rega a me la sento io 80.000 per il momento sono di poco non è bene o razzissimo è di frazzissimo rega con il berone mi toglie il 40.000 più o meno neanche il 40.000 comunque oh col berone è tutt'altra cosa va cioè le vicine a me toglierà 70.000 ma chi è che mette madonna ragazzi che mi piace proprio cosa rega siamo siamo già a tre cristalli giusto solo quella non abbia saltato mette te perché che fatti così qua sopra mamma mia io fra aumenta il danno se sei avvicinato a cristallo lo sai eh lo so ma tu fai delle cose dietro 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 vai a guerra vai a guerra c'è il giro sono morto vai a guerra vai a guerra me la butto no tira la botta tira la botta tira la botta tira la botta ma alla fine chi l'ha tirata la botta perchè io l'ho tirata no no son morto di nuovo grande abbo sempre contentissimo dj abbo dj abbo sei morto 20 volte prima non è vero non è vero non è vero non è vero no 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 madonna matti 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 insomma fra l'ho questo per il morire perché mi stanno con un po di vedi che non so il problema è teccare del merda che rompe gli coglioni tira una botta se ce l'hai ma non non c'era e quindi non tirare mi 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 что mi 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 v alze portarci i vostri fatti aspettati dopo il mondo tra l'altro per essere se sei tutte scuse madonna si perdono in fazzi per me va con quella roba ma non mi resta più e vediamo no 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 fai in serio che facciamo? anzi per pallare si 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 bravo eh per guardare oh 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 ma donna mia tu sei con lei dai vai vai rega non mi incontrivo sui colpi ma dai dove c'è mandati mamma mia ho 7 colpi no io ce n'ho 6 colpi fra non mi ha fatto mettere cioè ma c'è fino è meglio aumentare il danno fra già non ce l'hai un cazzo tu mi sei risultato no fra un colpo in più cioè scusami il mini cioè c'era uno smasher mi ha guardato ed è suonato e ha detto no 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 ha 7 colpi nella nostra mamma no io non ce li ho 7 colpi io i 20 pack non li ho spesi no io già ce l'avevo a parte vabbè raga è impossibile che non mi entri un critico a me mamma mia che schifo a me sono critico ma io che fa i bui ma levate levate che devo salire levate che devo mettere la cappella per salire nooo dov'è bravo sono morto anche io ma matti avvicinate a me matti avvicinate a me una botta se no se non ce l'avevi restate a me che ce l'ho anche io ce l'ho ah ok ok se ce l'hanno allora è meglio vai Apo vai ma guarda come si gira mamma mia miniboss ci dovete collegare al post i punti sono scommati cioè braccio braccio raga l'abbiamo devastato guarda qua guarda si è devastato si è devastato l'ho tirato fra se no come cazzo abbiamo fatto a fare il cristallo in pochissimi colpi eh ma eh merito no con lei è merito vabbè ma perché hauer vabbè ma perché hauer ovviamente hauer non ho preso però vabbè dietro niente no ragazzi la one shot no rega eh sto morendo ario matti guai matti guai mamma mia matti guai guarda mamma mia eh raga mamma mia dov'è dietro raga raga quello sotto la scena me l'ho lasciato white forse questo è buono raga no ragazzi mi sei vagato il tetto mi ricordo che l'apolo ha detto ma vaffanculo va apopan apopan sono morto no raga sono morto però l'ho fatto eh per fare un cavolo di cristallo sono morto atti poi cioè guarda 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 rapunzel guardo se le vinto le cinque hai visto tutto braccio quello che bisogna non era quello che non era quello la guai rega ci avete una botta per il sam c'è vario queste guai pregato dai bravi salite salite c'è direi c'è ecco no un per forte dimmi ok l'usia non tira eh lo so lo so aspetta vai a tirarlo tirarlo tutto tutto dipende da ora rega dobbiamo farlo fare tantissimo danno che cattivega che cattivega oh no schiatta schiatta va bene così ok un attaccato l'abbiamo fatta oh rega li fate i punti che ricordo rega lo puoi sparare come ti puoi ritenare eh mo inizio il problema no rega c'è vorbarone velocità eh ma aspettate che se no qua ci muoio ancora scusi però signor capodimbo no rega mi toglie troppo mi toglie troppo mi toglie troppo ci sono troppe meteoro ah hanno lo tuor chiusa pure di chiusa stavo morendo a vista anche matti cazzo sente è vero stavo morendo però si è riuscito a essere matti la cazzo di mini ce l'ha con me non ce ne va da un'altra parte dai giuse perché sei bellissima o se vi avvicinate il grido allora riguardo al grido devi beccarti a meno uno poi non importa chi chi becca no dai mi ha tolto la cosa e io le scale perchè almeno faccio più danno raggio come a tutti ce l'ho ma no ma quello la era un figlio allora come sta andando? insomma parte finale metà vita appena sbloccata la botta e non è il problema reset il problema è il cazzo di cosa di merda no pensavo che di qua a voi draggio ma non è quello che è quello a voi mini a voi draggio a voi draggio a voi draggio a voi draggio aspetta un attimo fra manca metà vita un tentativo no no niente oh non morire a pochè ragazzi muore a pochè ah poi è la botta cercate di non morire 13 secondi sono pedane e dice non è entrato provare a rianimare uno ho finito i materiali nooo giuse vattene giuse vattene curati vai giuse vai giuse raggio 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 no vabbè ragazzi no vabbè andiamocene via da sta zona che ci sono occhi belli tutto ragazzi 10 secondi ragazzi aspettate 10 secondi utilizzare anche il grido il grido per scorrere più veloce no vabbè in grande mamma mia signori no io sono morto pure io no no sono morto invece no no non morire a guardare la porta ma ti voglio mamma mia raga ma quanti sono forti da una diesima ma non mi è stato no adesso mi è che c'ho la porta amati vicino a me ma tu vicino a te ricordate che è lo scatto non so c'è anche la porta raga c'ho il grido c'ho il grido allora raga tutti da me tutti da noi tutti da noi tutti noi aspetta un attimo aspetta un attimo raggio 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 a qua 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 anche io ce la botta no non è vero sto scherzando scusami raga regale ultima tacchetta l'ultima tacchetta raga no raga dobbiamo giocare comunque serie non ce ne fotte aspetta un attimo no mi sa che sono morto raga sono morto sono morto sono morto oh zitto no raga mi sei pagato al cerchio mi sei pagato al cerchio a web si riesce a venire da me a procura diapo non ci credo ragazzi non ci credo proprio niente mi sei pagato al cerchio raga dovete farla voi inutile forse potrei andare qua però eh ma ti riesci a mettere vicino a me a petano va 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 c'è morto mi c'è no zitto però morì perché è morto scuola il bombardamento è una tacchettina raga ora o mai più raga ci sarebbe finito giù che no fra non mi abbiate dai regà qua ti basta taglie si cazzo vai a porco invece vede pure la clip della vecchia mamma mia ragazzi mamma mia stanotte la del cazzo ragazzi primo tentativo vero? no secondo raga quanti tentativi abbiamo fatto? eh uno con questo qua primo maronna mia raga raga tipo nottele chi ne vuole? guarda hauer aspira porvere mamma raga primo tentativo quanto cazzo siamo forti? c'è almeno primo tentativo con me poi non so che avete fatto tuoi eh no 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 ma matti l'aveva detto matti l'aveva detto questo qua era la team definitiva io hauer giuse no 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 vedi che ti ricordo e ho fatto pure più combattimento me lo giugate giuga giuse guarda quanto combattimento hai fatto tu e guarda quanto non ho fatto io me lo giucci giuse ora vedo Apo 4 mili di combattimento allora a vedere a vedere